Questa icona è nata per il premio Semplicemente Donna, abbiamo cercato di dare con semplicità un significato importante come lo ha il premio. È un materiale, una fusione fatta con la tecnica di cera persa, è un materiale bronzo, è pesante proprio per sottolineare anche l'importanza del messaggio che vogliamo lanciare con il premio Semplicemente Donna. Come vedete sulla mano tiene questa sfera di cristallo di rocca, un materiale naturale che è stato appositamente voluto perché oltre il fatto che sia naturale ha al suo interno delle screziature, delle inclusioni che rappresentano le vicissitudini della vita di una donna, il bene, il male, il futuro, il passato. La posizione è di introspezione, quindi è una donna che sta cercando di capire qual è il suo futuro e di pensare a qual è stato il suo passato. Volutamente le linee sono morbide e non delineate perfettamente perché vogliamo che rappresenti tutte le etnie, tutte le età e quindi tutte le donne del mondo, semplicemente donne.